.goldshop, il negozio online preferito dagli sportivi. www.goldshop.com Mister, complimenti per la vittoria nel derby. Avete fatto un gran primo tempo, soprattutto a livello di personalità, anche secondo Mister del Torconca. Secondo tempo avete sofferto, avete stretto i denti e avete portato a casa una vittoria, penso, meritata. Grazie, comunque, a nome dei giocatori, che sono quelli che vanno in campo e quelli che hanno tutto il... come si chiama... ...han giocato loro, sono loro che... ...debiamo fare i complimenti a loro, no? La squadra del Torconca era una buona squadra, esperta, nos ha messo in difficoltà nel secondo tempo, noi abbiamo calato un po' fisicamente. Oggi giocàvamo con quattro giocatori, normalmente titulares, che non c'erano nella squadra, per diversi motivi, e dopo giocavamo una squadra molto giovane. La punta central nostra, un 2004, il pivot un 2003. Per me, il calcio si fa così, gioca chi è bravi, no? Io non guardo la carta d'identità. Infatti, Mister, io voglio fare i complimenti. Secondo me il migliore in campo oggi pomeriggio è stato il più giovane in campo, Fabri Lorenza, che ha segnato anche uno dei due gol. Si, Fabri ha lavorato molto, anche senza la pala, come le chiediamo, ha fatto una gran partita. Però io non risaltaria solo un giocatore, perché anche i tre attaccanti hanno tornato a segnare tutti i tre una volta, come la prima partita, non l'estese, però i tre attaccanti. Dopo devo dire che tutti i giocatori hanno dato il máximo, ci sono sobrato magari dieci minuti della partita.